Il sottosegretario alla salute Elio Cardinale, ospite ad uno mattina con il presidente della regione Gianni Chiodi, indica l'Abruzzo come esempio da seguire per risanare i conti senza ridurre la qualità dei servizi. Domani in Consiglio regionale si dovrebbe nominare il nuovo Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico, in caso contrario i tempi si allungherebbero, per il PD lo stancheggio nasce dalle divisioni in seno al centro-destra. Formazione e inserimento nel mondo socio-lavorativo per i detenuti e gli ex detenuti, e questa è stata la finalità dell'ambizioso progetto presentato oggi in provincia e finanziato dalla regione Abruzzo. Domani ombrelloni chiusi fino alle 11 per dire no alla direttiva Bolkestein. Nel Terramano manifestazioni principali a Giulianova, Alba Adriatica e Tortoreto. Da domani a domenica Montori Alvomano torna la vetrina del parco, giunta alla 17esima edizione. Aria di Serie A domani per il Teramo. Allo stadio di Piano Daccio arriva il Pescara neopromosso. Mercato in stand-by per il Teramo dopo gli arrivi di ieri. La Tecnoelettronica Teramo cala il Tris per la prossima stagione di Pallamano Maschile. Confermati il main sponsor, l'allenatore Marcello Fonti e Vito Vaccaro. Buongiorno e benvenuti al telegiornale di Teleponte. Buongiorno, benvenuti. Apriamo il nostro telegiornale parlando della regione Abruzzo. Il caso Abruzzo, inteso come fenomeno virtuoso di risanamento dei conti nella sanità, è stato al centro dell'odierna puntata di Uno Mattina Estate. Il popolare contenitore mattutino, direi uno, dove sono stati ospiti il presidente della regione, il commissario per la sanità Gianni Chiodi, e il sottosegretario alla salute, Elio Cardinale. Siamo stati la prima regione italiana ad essere commissariata, ha detto Chiodi, perché non eravamo in grado di garantire una sanità a costi sostenibili per i cittadini. Chiodi ha spiegato poi come l'Abruzzo, pur partendo da una situazione di default finanziario, si è riuscito a invertire la tendenza ottenendo un pareggio di bilancio già nel 2010, un cospicuo avanzo economico nel 2011, che ha consentito investimenti in tecnologia e personale. Questo ha determinato un sensibile miglioramento del sistema sanitario regionale. Inoltre, ha aggiunto Chiodi, anche per il 2012 le previsioni, scontando anche gli effetti della spending review che abbiamo anticipato, appaiono piuttosto incoraggianti. Risultati che sono dunque sotto gli occhi di tutti e che non sono sfuggiti al governo nazionale. Tant'è vero che il sottosegretario cardinale ha preso a modello proprio la regione Abruzzo, sostenendo che rappresenta la dimostrazione di come sia possibile risanare i conti senza ridurre la qualità dei servizi. E domani in Consiglio regionale si dovrebbe nominare il nuovo CDA dell'Istituto Zooprofilattico. In caso contrario, i tempi si potrebbero allungare a dismisura. Per il PD lo stancheggio nasce dal mancato accordo in seno alla maggioranza di centrodestra. Il servizio. Luca, il PD lamenta il rischio concreto che non si possa procedere, prima d'entrata in vigore della nuova legge, alla ricostruzione del CDA dell'Istituto Zooprofilattico. Sì, secondo me questo rischio c'è. Abbiamo fatto un grosso lavoro per far approvare le leggi dalla regione Abruzzo e dalla regione Molise. Oggi tutti quanti gli attori hanno fatto quello che dovevano, e cioè la regione Molise ha nominato i suoi due componenti, il Ministero ha nominato il suo componente. Manca la regione Abruzzo. Purtroppo in questi giorni noi abbiamo avuto il sentore che Chiodi e la sua maggioranza non vogliono fare le nomine, perché abbiamo chiesto più volte l'anticipazione di questo punto all'ordine del giorno, ci è stata sempre bocciata, e abbiamo un timore concreto che siccome l'ultima seduta del Consiglio regionale, perché poi si andrà a settembre, è domani, se domani non vengono fatte le nomine entrerà in vigore il nuovo decreto. Ragionando in termini politici, dal vostro punto di vista, perché c'è questo lassismo? Ci sembra chiaro, probabilmente c'è una difficoltà all'interno del PDL a scegliere un nome, sappiamo che ci sono valutazioni diverse tra presidenti e assessori, quello che diciamo noi non si possono anteporre interessi di bottega all'Istituto Zooprofilattico, che è una casa più grande dei partiti, più grande di noi, e che noi abbiamo il dovere di tutelare. Occupiamoci di cronaca, ammassati come sardine in pochi metri quadrati, tra giacigli di fortuna e mercanzie da vendere poi sulla spiaggia. E l'immagine che si sono trovati davanti ieri mattina ai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica, nel corso di un controllo interforze con guardia di finanza, polizia e vigili urbani, effettuato in quattro appartamenti occupati da extracomunitari. Nei quattro alloggi, due in via Bafile e altrettanti in via 24 Maggio, sono stati contati circa 60 stranieri, soprattutto del Bangladesh, 15 dei quali clandestini, per i quali sono scattati poi le procedure di espulsione dal territorio nazionale. Il blitz è scattato prima che gli occupanti dei quattro alloggi partissero con le loro mercanzie per battere il litorale. Per tre dei clandestini è scattata anche la denuncia, perché erano già gravati del provvedimento di espulsione, mentre un altro è stato denunciato per detenzione di prodotti con marchi contraffatti. La merce sequestrata monta a circa 10.000 euro. Fino ad ora è stata una giornata relativamente tranquilla sul fronte degli incendi in provincia di Teramo. I vigili del fuoco hanno fatto due interventi di lieve entità a Tortoreto e a Giulia Nova per altrettanti principi di incendio di sterpaglie, fiamme che sono state subito spente. Formazione e inserimento nel mondo sociolavorativo per i detenuti e per gli ex detenuti. E questa è la finalità dell'ambizioso progetto presentato questa mattina in provincia e finanziato dalla Regione Abruzzo. Vediamo il servizio. Assessore Gatti, quello che viene presentato oggi è un progetto ambizioso e importante finalizzato al recupero sociolavorativo dei detenuti ed ex detenuti. Ma intanto noi cerchiamo di spargere un po' di risorse sul territorio, di risorse ce ne sono poche. Qui ci sono 300 mila euro per il recupero di oltre 30 tra detenuti in fase finale di espiazione della pena e ex detenuti. L'obiettivo qual è? Farli rientrare nella società, non farli essere un peso, evitare che continuino a delinquere. Dargli quindi una chance di rientrare e per farlo la cosa più importante è una chance dal punto di vista lavorativo. E quindi il progetto ha questo scopo, noi ci crediamo, fa parte del più generale processo di inclusione sociale rispetto al quale abbiamo stanziato 12 milioni di euro. Speriamo di aver fatto una buona azione, di dare delle buone possibilità a tante persone che è vero che hanno sbagliato nella loro vita precedente, ma possono avere una seconda possibilità e in questo modo di evitare tensioni sociali. L'obiettivo principalmente è dare un contributo al sistema dell'inclusione sociale dei detenuti, evitare che la società attiva abbia ad essere colpita, diciamo così, dalla problematica del detenuto sostenendo soltanto costi, ma avendo anche la percezione che questo detenuto possa essere realmente reinserito e quindi ricominciare comunque in un'attività sociale che può essere utile a tutti noi. Si terrà domani alle 10.30 nello spiazzo antistante il comune di Pineto in via d'annunzio la cerimonia con la quale saranno esposte a mezzasta le bandiere comunale e quella di salvamento con le problematiche legate alla direttiva Bolkestein. All'incontro parteciperanno tra gli altri il sindaco di Pineto, Luciano Monticelli, Enrico Di Giuseppe Antonio, presidente del Lupi e Abruzzo, il senatore Giovanni Legnini e l'onorevole Tommaso Ginobble. Restiamo in tema perché domattina c'è la protesta vibrante dei balneari. Domani ombrelloni chiusi fino alle 11 per dire no alla direttiva Bolkestein. Manifestazioni principali in provincia di Teramo si terranno ad Alba Adriatica, Giulianova e Tortoreto. Ombrelloni chiusi domani fino alle 11 per protestare contro la confisca di imprese sane e il rischio di consegnare le spiagge alle multinazionali. Il movimento dei balneari, categoria che conta lungo i 103 chilometri di costa abruzzese, oltre 800 piccole e medie imprese per lo più a conduzione familiare, si prepara al primo sciopero in piena estate che porterà i gestori delle spiagge a tenere chiusi gli ombrelloni e i servizi, ad eccezione del salvamento, domani mattina fino alle 11. Nei giorni scorsi FIBA Confesercenti, la più rappresentativa delle associazioni in Abruzzo, ha fatto appello ai sindaci e ai presidenti dei consigli comunali per chiedere di manifestare la propria solidarietà alle aziende sulle quali pende il rischio di mandare in fumo anni di lavoro a causa della direttiva Bolkestein. FIBA Confesercenti si sta attivando su tutto il territorio regionale con iniziative di sensibilizzazione verso i bagnanti sulle ragioni della protesta. L'appuntamento principale a livello regionale si terrà a Montesilvano, altri appuntamenti si terranno nelle principali località costiere delle altre due province, a partire dal Terramano dove si terranno volantinaggi e azioni di sensibilizzazione dei bagnanti e dei turisti con i delegati di zona di FIBA Confesercenti, Domenico Mari ad Alba Adriatica, Carlo Iampieri a Tortoreto e Nino Bertoni a Giulianova. Nel Chietino due invece gli appuntamenti quasi in contemporanea, a San Vito e a San Salvo. La costa a Terramana non ha mai goduto del mare così pulito come quest'anno. La soddisfazione dell'assessore provinciale all'ambiente Francesco Marconi. Sentiamo l'intervista. Stagione estiva eccellente da un punto di vista ambientale della balneabilità per le acque della costa a Terramana. Sì, è proprio così e prova ne è il fatto che tutti e sette i comuni della costa a Terramana hanno di nuovo ricevuto la bandiera blu. Questa costa blu, questo brand che abbiamo fatto noi come provincia insieme ai comuni, naturalmente hanno tutti quanti insieme. C'è stato un miglioramento rispetto agli anni passati? Qualcosa sta cambiando da un punto di vista ambientale anche nella mentalità dei turisti e dei cittadini? Ma soprattutto dei cittadini che hanno messo al primo posto naturalmente l'ambiente, quindi la tutela dell'ambiente e la sostenibilità del nostro territorio. Certamente da parte degli amministratori locali questa sensibilità ormai da anni è stata acquisita e quindi anche da parte dei turisti vediamo che c'è molta attenzione rispetto a tutti questi dati. Un dato di fatto è che quest'anno abbiamo un'acqua di mare molto molto pulita, è proprio sotto gli occhi di tutti, diverse tartarughe. Io insomma in 46 anni che vivo il mare, sono di Tortoreto, non ho mai visto tartarughe diciamo in mare, ma quest'anno purtroppo alcune sono state trovate morte perché con eliche di motoscafi sono state purtroppo così decapitate. Però ecco un segnale forte che praticamente è un mare vivo, è un mare che sta riacquistando quella salubrità che tanti anni fa aveva. E adesso ci spostiamo a Roseto. Sono stati ultimati nei giorni scorsi diversi interventi di messa in sicurezza di alcune importanti arterie del territorio comunale di Roseto, con particolare attenzione alla rimozione delle pericolose cunette create dalle radici degli alberi sul manto stradale. I lavori di messa in sicurezza di ripristino del manto stradale rovinato sono stati realizzati sulla statale 16 nel tratto compreso tra via Mezzopreti e piazza Ungheria. Lo stesso tipo di intervento è stato seguito sulla parte centrale di viale Makarska. I lavori di rifacimento completo del manto stradale sono stati invece realizzati su via Grecia nella frazione di Voltarrosto. Restiamo a Roseto dove la raccolta differenziata porta a porta funziona. È il parere del sindaco Egno Pavone che esprime la sua soddisfazione. Sentiamo. La raccolta differenziata porta a porta. A Roseto possiamo fare un primo bilancio. Sindaco Pavone, come sta andando? Siamo anche qui molto soddisfatti, nonostante alcune lamentele, alcune polemiche. Però quando si ha il coraggio di fare delle riforme sostanziali in una città, come è il passaggio da una raccolta sul strada a quello porta a porta, questo ci va messo in conto. I lati positivi sono largamente superiori a quelli negativi. Abbiamo liberato la città da questi maleodoranti cassonetti di cui parlavamo in campagna elettorale. Prima il lungomare, come promessa, e poi la zona centrale di Roseto, che è ultimata. Quindi adesso tutta Roseto Centro è servita al porta a porta, a cui pensiamo nel giro di un anno di estenderlo anche al resto delle frazioni. Ci sono delle problematiche ancora da risolvere, soprattutto nei condomini, e soprattutto considerando che molte persone nel senso civico oramai l'hanno perso e che continuano a buttare immondizia dove magari ci sono ancora i cassonetti e quindi c'è una migrazione dell'immondizia. Abbiamo adottato e firmato delle ordinanze anche molto pesanti nei confronti dei trasgressori, a cui dico già di non venire una volta che hanno preso le multe a lamentarsi in comune, perché le quadriubrecheremo piuttosto che toglierle. 32esima edizione del pellegrinaggio a piedi Teramo, San Gabriele. Si parte sabato sera, sabato 4 agosto, alle 21.30. C'è il raduno nella cattedrale di Teramo con la benedizione dei pellegrini, l'accensione della fiaccola della speranza che proviene da Sisi, da parte di Sua Eccellenza, il Monsignor Michele Seic, il Vescovo di Teramo. Alle 22 la partenza, poi all'una il transito a Montorio. Alle 6 l'arrivo al santuario di San Gabriele, alle 7 la celebrazione della Messa. Nonostante le difficoltà economiche, torna anche quest'anno a Montorio Alvomano la vetrina del parco. Appuntamento da domani a domenica prossima. Sentiamo. Torna da domani al 5 agosto a Montorio Alvomano la tradizionale manifestazione estiva, la vetrina del parco che quest'anno però ha rischiato fortemente di saltare. Vero Sindaco? Sì, ma non per motivi politici o per mancanza di volontà da parte dell'amministrazione. Ovviamente le mille difficoltà in cui si trovano tutti gli enti pubblici a seguito delle note vicende economiche del Paese aveva messo in forte rischio anche questa manifestazione. Però diciamo l'importanza della manifestazione stessa, nonché la voglia del Comune di Montorio Alvomano di mantenerla, per l'importanza che la stessa riveste non solo per noi ma per tutta l'entroterra e per tutta l'area protetta del Terramano, ha fatto sì che siamo riusciti a salvarla e a renderla interessante come è forse di più anche rispetto alle altre manifestazioni. Ricco anche il cartellone degli spettacoli, tutti ad ingresso gratuito. Tutti ad ingresso gratuito, sì. La manifestazione, come ben sapete, ha una parte culturale e una parte ricreativa come tutte le altre. La parte culturale è la mostra di Maurizio Anselmi dedicata alla Via del Gusto, la mostra fotografica, dopo la mostra dell'artista della Via Maestra, quest'anno tutto questa è stata Via Maestra, di Silvio Cortellini. Dopodiché abbiamo un'altra mostra al Palazzo Patrizzi dedicata a un cuore rosso sul Gran Sasso. e dopo tutta una serie di eventi musicali, culturali. Letteratura e musica inizia l'agosto di Castelbasso, tre serate con i maestri del jazz italiano e il concerto di Pacifico. Da questa sera al 4 agosto, tre serate per tutti gli appassionati del jazz con il progetto IMC Jazz International Music Class che giunto alla terza edizione si svolgerà a Castelbasso grazie alla collaborazione tra l'Associazione Kimbala e la Fondazione Menegaz. Gran finale della settimana il 5 agosto poi con Pacifico che presenterà con un racconto in musica il suo ultimo disco Una Voce Non Basta. Con concerto intimo inizia domani appena Sant'Andrea la 36esima edizione dell'incontro di folklore internazionale lo spettacolo musicale che vede sul palco tra gli altri Max Berru fondatore e membro degli Intillimani per 30 lunghi anni si articola attingendo dal repertorio riarrangiato proprio degli Intillimani e in particolare dei brani dove Max Berru ha avuto una componente vocale di primo piano. Marco Sciarra, il brigante più conosciuto del 500 italiano. Se ne occupa un libro scritto da Elso Simone Serpentini. Domani sera il libro sarà presentato a Bellante Paese. Vediamo. Dopo la presentazione a Rocca Santa Maria Comune nel quale è nato Marco Sciarra ci sarà una nuova presentazione del libro di Elso Simone Serpentini venerdì prossimo 3 agosto in Piazza Mazzini a Bellante Paese alle 21. Organizza l'Associazione Culturale Nuove Sintesi. Professor Serpentini, Marco Sciarra è un personaggio affascinante o preoccupante? No, io sono contento che Nuove Sintesi abbia voluto organizzare questa presentazione perché Marco Sciarra è il brigante sicuramente più conosciuto di tutto il 500 italiano non c'è uno storico del 500 che non ne abbia parlato ed è un personaggio di un'attualità sicuramente molto grande perché intanto non si è fatto mai prendere nonostante ben due eserciti ciascuno di 5.000 uomini cercassero di prenderlo poi perché si dichiarava commissario di Dio mandato in terra a combattere gli usurai e coloro che detengono moneta oziosa ridistribuiva la ricchezza che toglieva ai ricchi, ai poveri quando andava nelle frazioni che saccheggiava si faceva indicare il nome dei ricchi e il nome dei poveri toglieva i ricchi e poi distribuiva i poveri potrebbe essere ancora attuale? in un certo senso sì tu pensa che Marco Sciarra c'è stato un periodo in cui ha cominciato a battere pure moneta non soltanto trattava la pari con papi e cardinali e ha orientato più di un conclave ma batteva moneta cioè quando sottraeva dei beni ai ricchi poi lasciava una ricevuta con la sua firma il segretario generale della Camera del Lavoro di Teramo Giampaolo Diodoardo ha perso ieri l'affetto della madre venuta a mancare all'età di 88 anni al dirigente provinciale e al militante sindacale si legge in una nota della CGL tutti i compagni e tutti gli iscritti della CGL Teramana esprimono le loro condoglianze per la perdita della signora Fernanda unitamente ad un sentimento di vicinanza e di affetto fraterno i funerali si svolgeranno domani venerdì 3 agosto alle 11 presso la chiesa madre di Isola del Gran Sasso al segretario della CGL di Teramo vanno le condoglianze anche di tutta Teleponte e adesso andiamo a vedere le altre notizie importanti della giornata quelle della nostra consueta rassegna stampa in video Giovedì 2 agosto 2012 il centro cronaca rapinati in viaggio di nozze in Messico drammatica avventura di una coppia teramana minacciata da banditi armati resta senza soldi, documenti e telecamera Teramo di Sabatino a Brucchi decidi se devo restare Martinsicuro l'erosione fa paura raccolte 3.000 firme la petizione punta a 10.000 Giulianova Asla chiude il servizio veterinario i controlli sul pesce sono a rischio Pineto e i cittadini multano le auto dei vigili urbani parte la singolare vendetta degli automobilisti che chiedono più tolleranza la città Teramo Sanità il batterio killer è sotto controllo la Asla di Teramo ha alzato tutte le difese Teramo Udc Dodo punta sul dialogo intanto smorza i rumors sul destino politico del suo partito provincia Teramo Lavoro tutti la vogliono ma la situazione non si sblocca votato un altro ordine del giorno per la proroga cronaca Sant'Egidio ruba oro ai genitori in affido denunciato un minore e due commercianti Montorio il parco si mette in vetrina e la strada maestra il tema dell'edizione 2012 della manifestazione tra sapori e saperi cultura e natura Giulianova quanti tesori in fattoria da domani al Cursal la straordinaria tre giorni della manifestazione organizzata dalla Confederazione Italiana Agricoltori il messaggero cronaca università stangata sul dipendente infedele condanna della Corte dei Conti dovrà risarcire oltre 500.000 euro università il tablet in regalo è un caso nazionale studenti divisi tra favorevoli e contrari Teramo tensione in comune Brucchi scaccia la crisi è interna all'UDC Giulianova ore di terrore in mare ragazze contro gli scogli ferite alle mani e alle gambe salvate dalla Croce Rossa Roseto bike sharing nuovo punto per il noleggio il tempo sanità inchiesta interna sull'ecografia del 2013 per la ASL ci sarebbero stati errori nella procedura ma le carte dicono il contrario i vertici dell'azienda cercano di minimizzare quanto accaduto alla donna in stato di gravidanza Giulianova scippata di igiene degli alimenti Mastromauro accusa cronaca Sant'Egidio ruba i gioielli ai futuri genitori aveva rivenduto oro e preziosi ad un commerciante Giulianova controlli sulla spiaggia contro i venditori abbulanti e adesso andiamo a vedere insieme che tempo farà nelle prossime ore con le previsioni di Meteoteramo.it Previsioni per oggi in provincia di Teramo bel tempo per l'intero arco della giornata su tutto il territorio provinciale da segnalare solo il transito di innocue velature temperature in lieve aumento massime comprese tra 31 e 34 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 29 e 32 gradi sulle coste venti deboli a regime di brezza mare quasi calmo e siamo allo sport iniziamo con il calcio amichevole di lusso domani per il Teramo impegnato alle 20 e 45 contro il Pescara di Stroppa intanto il mercato bianco-rosso chiude momentaneamente i battenti dopo i tre nuovi arrivi di ieri il servizio Aria da Serie A domani al nuovo stadio di Piano Daccio terzo trofeo vittoria assicurazioni Teramo contro Pescara per il terzo anno consecutivo di questo calcio d'estate che non dà risposte definitive ma solo qualche indicazione qua e là indicazioni che si sono avute anche ieri da mister Cappellacci nell'amichevole vinta contro l'Alba Adriatica 4-0 il 4-2-3-1 sembra il modulo su cui l'allenatore del Teramo voglia puntare al momento per la prossima stagione con Bucchi, terminale dell'attacco bianco-rosso e Bellucci, attaccante anche lui ma abbastanza duttile da sapersi adeguare anche al ruolo di esterno ieri ha fatto il suo esordio uno dei tre nuovi acquisti Daniele Granata, altro difensore che rasenta i due metri di altezza come Caidi e Ferrani è arrivato per svolgere subito il suo compito ovvero far rifiatare uno dei due centrali in difesa ieri nello specifico è stato Caidi non solo Granata ma anche Falzarano e soprattutto Novinic il centropista sloveno classe 1991 di proprietà del Milan che arriva dopo un anno di militanza nel Virtus Lanciano e di cui gli addetti ai lavori dicono un gran bene il mercato del Teramo si fermerà qui almeno per il momento società ed allenatore si prenderanno qualche giorno per valutare la rosa e decidere se c'è bisogno di qualche altro intervento tornando alla gara di domani sera contro il Pescara ci sarà tempo fino a domani alle 13 per acquistare i tagliandi di curva per coloro che invece andranno in tribuna c'è tempo fino alle 20 ai botteghini e adesso il basket cominciamo dalla DNB la vecchia serie B2 la McEnergy Roseto ha ingaggiato ieri Francesco Amoroso fratello di Valerio ex giocatore della banca Ter Casteramo l'arrivo dell'ala forte napoletana già a Campli parecchi anni fa completa il reparto lunghi a disposizione di coach Ernesto Francani la Penta Basket Teramo in merito alla conferenza stampa di presentazione del programma volto alla gestione alla valorizzazione del proprio settore giovanile conferma anche la presenza di Gianluca Lulli capitano storico della Teramo Basket Lulli sarà quindi il testimonial dell'importante progetto della Penta Basket proprio a dimostrazione del suo attaccamento a Teramo e al basket Teramano che in questi concitati giorni sta provando a ripartire di slancio e che vede nella società del presidente Sannicandro la realtà più attiva si legge in una nota si ricorda quindi l'appuntamento per oggi alle 15 al Palace Capriano con la conferenza stampa per illustrare tutto il programma nel dettaglio e chiudiamo con la pallamano la Tecnoelettronica Teramo conferma il main sponsor la Tecnoelettronica appunto l'allenatore Marcello Fonti e il giocatore Vito Vaccaro la preparazione di Biancorossi inizierà il prossimo 16 agosto il servizio la Tecnoelettronica Teramo si prepara alla stagione nella nuova Serie A partendo da tre conferme importanti la prima sta nel nome la Tecnoelettronica di Gianni Tanzi è infatti ancora main sponsor della squadra Biancorossa e di questi tempi non è cosa da poco trovare conferme sotto il profilo economico la seconda buona notizia sta seduta in panchina Marcello Fonti sarà infatti anche nella prossima stagione l'allenatore della Tecnoelettronica Teramo e non solo Fonti avrà anche il ruolo di supervisore del settore giovanile Biancorosso giovani la cui crescita diventa fondamentale in questo momento di crisi economica giovani su cui Marcello Fonti ha sempre dimostrato di vederci lungo d'altronde quella di investire sui ragazzi è una politica già sperimentata dalla Tecnoelettronica anche nella passata stagione politica che ha consentito alla società di salvarsi e raggiungere per il secondo anno consecutivo il playoff scudetto la squadra dovrà avere un solo straniero per regolamento e di certo riparterà da Vito Vaccaro il giocatore siciliano terza conferma della stagione 2012-2013 della Tecno vestirà in biancorosso un altro anno il DS Jimmy Di Giulio sta già lavorando per avere al più presto altri innesti sempre però con un occhio ai bilanci il 16 agosto parte la preparazione il 22 settembre prima gara della stagione contro il Città Sant'Angelo sulla nave Tecno c'è ancora a bordo anche Roberto Almonti all'amministratore delegato l'ingrato compito tra gli altri di trovare fondi in un momento di lacrime sague l'informazione su Teleponte torna alle 17.30 con l'edizione flash del nostro notiziario poi alle 19.15 con l'edizione serale del TG vi ricordo che comunque potete seguirci sempre in diretta e in differita sulla nostra web tv all'indirizzo www.teleponte.it e con questo è tutto grazie per l'attenzione buon pomeriggio grazie arrivederci grazie